ciao a tutti e benvenuti in un nuovo retro gaming di final fantasy 1 probabilmente l'ultimo retro gaming del gioco seguiremo ancora la guida perché siamo quasi arrivati fino alla fine del gioco quindi proseguiamo adesso dobbiamo scendere la scala ovviamente e vediamo qui dove devo prendere dobbiamo scendere e scendere poi a destra no non capisco se non la dobbiamo scendere guardate un attimo si a destra da sempre in basso a destra poi sempre in basso non capisco ok qui c'è una cesta ora devo tornare indietro praticamente sì e stavolta salire no si salire e poi scendere ovviamente ok Grazie a tutti. Cavolo, no, meno male. Ok, vediamo adesso. Salire. Ciao. e qua vicino c'è l'ultimo boss prepariamoci ma dovrebbe essere l'ultimo in teoria a destra eccolo qua lui si deve curare non vuole morire non vuole maledetto lo saprei ammazzare è morto è morto meno male ok usiamo l'elisir su alcune siamo obbligati stavolta a farlo ok adesso dobbiamo andare per forza a destra ok 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 in basso a destra e poi salire mi sa che non è finita neanche qua ora vediamo non lo so se abbiamo più penso di no però ok 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 quindi siamo quasi alla fine. Adesso vediamo dove dobbiamo andare. Perché forse c'è un altro boss. Ok, dobbiamo scendere. E penso che è lui il grande boss finale. Alla prossima. Ok, prepariamoci alla fine. Non lo so se ce la facciamo raga, non lo so. È dura. Leva un botto di dita. Non ce la faremo noi nemmai. Non ce la facciamo raga. Gabbo già è morto. A posto siamo. Non ce la facciamo raga, non ce la facciamo. Non ce la facciamo raga. Siamo morte. Ma come faccio? Non ce la facciamo raga, non ce la facciamo raga. è troppo potente, è troppo potente. Cioè mi è morto di nuovo salvo, pure salvo. Raga, io mi arrendo. Non ce la possiamo fare contro questa. Non ce la facciamo raga, non ce la facciamo raga. Il problema è che non abbiamo neanche salvato l'aggiunta. Non ce la facciamo raga, non ce la facciamo raga. non ce la facciamo raga. Non ce la cosa è interessante, non ce la facciamo raga. Ah, veramente. Sì. Grazie a tutti. 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 Ok, però se ci muoiono ora è un problema. E... 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 C'è... E... 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 ma veramente no ma non ce la posso fa non muore è mortale non si vuole arrendere cioè che sto finendo tutte le risorse per curarmi grazie a tutti 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 ok